La Virtus Entella è in cerca di punti per migliorare la posizione classifica. Al momento sono settimi e provare ad avere un ruolo da protagonista nei play-off dopo un inizio di stagione difficile. L'avversario sabato sera al comunale di Chiavari è la Vis Pesaro. I marchigiani galleggiano a metà classifica ma sono una squadra difficile da battere. Quella che pareggia di più nel girone B, 12 pari in 22 partite e che arriva da 8 risultati utili consecutivi. All'andata i Bianco Celesti avevano perso 2-0 a Pesaro. La squadra si è allenata bene, abbiamo cercato di recuperare più giocatori possibili. Il gruppo adesso è molto giovane e quindi dobbiamo lavorare molto sull'entusiasmo che i giovani possono dare. Una partita complicata per la squadra di Fabio Gallo. Assenze importanti in difesa come Parodi e Sadichi è una squadra che in generale sta cambiando molto con il mercato aperto. A Garattoni lo conosco perché l'ho allenato la passata stagione a Foggia. È un ragazzo, è un esterno, è un esterno che ha la capacità di farsi trovare sempre in fase di conclusione. Mentre Portanova è un ragazzo che ho visto giocare contro di noi qui col Gubbio quando ero appena arrivato, mi aveva impressionato. Volevamo un giocatore con quelle caratteristiche e la società è stata brava. Sabato alle 18.30 scende in campo anche il Sestilevante in casa del Pescara. Una squadra forte, quella allenata da Zeman, quinta in grassifica e seconda per gol fatti. 40 solo dietro il Cesena capolista con 49. All'andata era finita 2-1 per gli abruzzesi. Il Pescara è la squadra che entra di più in area di tutto il campionato, con più tocchi in area, con più passaggi progressivi, con un maggior numero di rigori a favore che non è un dato sull'arbitraggio, è un dato sul fatto che loro entrano tantissimo dentro l'area di rigore con la palla e quindi di conseguenza subiscono anche più falli rispetto alle altre squadre. E quindi è una squadra che la devi prendere in un certo modo perché se sbagli a prenderla ti dà la sveglia. L'obiettivo del Sesc è la salvezza senza passare dai play-out, una meta ambiziosa ma, considerate le prestazioni dei corsari, alla portata. L'allenatore Barilari invita a confrontare i punti fatti tra girone andiandata e ritorno. I 18 della prima parte non sono un'andatura sufficiente e bisognerà provare a migliorare, confrontando le prime due partite il Sesc è avanti di un punto. Il progresso più evidente è stato in difesa, la squadra ora concede molto meno. Come anche a Lucca abbiamo trovato questa capacità e voglia di soffrire anche nei momenti brutti della partita e di non prendere gol. Quindi ce la dobbiamo portare assolutamente dietro a Pescara perché di momenti dove ci sarà da soffrire, come dicevo prima, ce ne saranno tantissimi.